Il virus dell'immunodeficienza umana, altrimenti chiamato HIV, è un virus che attacca il sistema immunitario, in particolare un tipo di globuli bianchi, i linfociti TCD4, che giocano un ruolo importante nei meccanismi di difesa dell'organismo dalle infezioni. Una volta verificato il contagio, le difese immunitarie si indeboliscono in maniera progressiva e l'organismo diventa suscettibile a infezioni causate da altri virus, da batteri o da funghi. L'HIV appartiene a un gruppo di virus chiamati retrovirus e tra questi al sottogruppo dei lentivirus, così chiamati perché sono caratterizzati da tempi lunghi tra il contagio e la manifestazione della malattia. L'infezione da HIV è caratterizzata da tre diversi stadi di progressione. Il primo stadio è quello rappresentato dall'infezione acuta, si manifesta mediamente tra la seconda e la quarta settimana dopo il contagio e questa fase è caratterizzata da sintomi a specifici che possono essere comuni a quelli di molte altre infezioni ed hanno una durata di giorni, a volte alcune settimane. Può anche essere del tutto asintomatica o passare inosservata. Questa comunque è la fase più contagiosa dell'infezione perché in circolo vi è una grande quantità di virus. Lo stadio successivo prende il nome di fasi di latenza clinica e la fase in cui si instaura l'infezione cronica. Può durare anni ed è caratterizzata da assenza di sintomi e apparente stato di benessere. Tuttavia se non viene intrapreso un trattamento il progressivo indebolimento del sistema immunitario determina la comparsa di segni e sintomi che ad essi sono correlati. L'ultima fase o stadio 3 è la cosiddetta fase della sindrome da immunodeficienza acquisita ovvero AIDS. È una fase caratterizzata dal grave deficit delle difese immunitarie causato dalla distruzione dei linfociti TCD4 da parte del virus per cui l'organismo non è più in grado di contrastare l'insorgenza di infezioni e malattie che vengono ad essere causate da altri virus, batteri o funghi. La sindrome da immunodeficienza acquisita rappresenta un importante problema sanitario in diverse parti del mondo e la sua diffusione è considerata una delle attuali pandemie. Si ritiene che la prima infezione sia avvenuta proprio in Africa intorno agli anni 50 a seguito di una mutazione di un virus presente nelle scimmie. Inizialmente aveva colpito pochi individui e soltanto agli inizi degli anni 70 cominciò a diffondersi in maniera esponenziale ma a causa del lungo periodo di incubazione la gravità della malattia AIDS si è poi evidenziata soltanto negli anni 80. Infatti il virus HIV venne isolato per la prima volta nel 1983. Si stima che nel mondo ci siano più di 35 milioni di persone contagiate e ogni giorno vengono diagnosticate circa 5 mila nuove infezioni di HIV. In Italia solamente nel 2018 sono state riportate circa 3 mila nuove diagnosi di infezioni di HIV e 660 casi di AIDS. Osservando questi numeri ci si può chiedere perché ad un numero di infezioni di HIV risulta un numero più basso di persone che contraggono l'IDS. La risposta a questo interrogativo sta nel fatto che non tutti i contagiati e gli infetti da HIV evolvono in AIDS in quanto non appaiono le infezioni opportunistiche successive all'HIV. Una persona si dice sieropositiva all'HIV se è stata contagiata dal virus ma non sono ancora comparse infezioni secondarie. Pur essendo positiva la persona contagiata può vivere per anni senza alcun sintomo. Per questo è fondamentale in caso di rischio sottoporsi all'esame del sangue per verificare se sono presenti anticorpi anti-HIV. L'AIDS invece è la situazione in cui si presentano infezioni opportunistiche secondarie all'infezione d'HIV. Rappresenta come abbiamo visto lo stadio finale dell'infezione d'HIV e si presenta quando le difese immunitarie sono talmente indebolite dal virus da non riuscire più a proteggere l'organismo neanche da microrganismi che diversamente sarebbero stati innocui. Prima di iniziare a trattare i meccanismi e le modalità di trasmissione è giusto chiedersi il perché visto che l'HIV ha come conseguenza un indebolimento del sistema immunitario lo stiamo studiando mentre parliamo di malattie sessualmente trasmesse. Perché il virus una volta penetrato nell'organismo si localizza anche in alcuni liquidi biologici quali lo sperma, le secrezioni vaginali, le secrezioni precoitali, il latte materno eccetera e questi diventano elemento di trasmissione e contagio. Sulla base di quanto detto abbiamo tre diverse modalità di trasmissione quella sessuale, quella ematica e quella verticale. La possibilità di trasmettere l'infezione d'HIV dipende tanto dal comportamento messo in atto e soprattutto dalla quantità di virus presente nel sangue o nelle secrezioni genitali della persona con HIV. La principale modalità di contagio d'HIV in Italia è rappresentata dalla trasmissione per via sessuale che avviene attraverso rapporti non protetti da strumenti di barriera con persone che hanno infezione d'HIV. Il sesso vaginale e il sesso anale recettivo rappresentano le modalità a più alto rischio di contagio. Tuttavia è possibile contrarre l'HIV anche attraverso alcune pratiche sessuali particolarmente traumatiche che ne aumentano il rischio di trasmissione. La presenza di altre infezioni a trasmissione sessuale, ad esempio la gonorrea, la sifilide, la clamidia eccetera, può aumentare il rischio di acquisizione dell'infezione d'HIV. La trasmissione di HIV per via ematica può avvenire tramite la condivisione di aghi, siringhe o altri strumenti per la preparazione e iniezioni di droghe con una persona con infezione d'HIV. Attualmente in Italia il rischio di contrarre l'infezione d'HIV attraverso le trasfusioni di sangue o emoderivati è praticamente azzerato. Infatti il sistema trasfusionale nazionale presenta alti livelli di qualità e sicurezza e prevede controlli di laboratorio su ogni singola donazione al fine così di poter escludere la presenza di HIV. Il virus inoltre può essere trasmesso da madre a figlio durante la gravidanza e il parto per mezzo dell'esposizione alle segrezioni e al sangue materno e successivamente durante l'allattamento al seno. Il rischio di contagio con queste modalità si è comunque oggi drasticamente ridotto attraverso l'esecuzione del test HIV raccomandato a tutte le donne in gravidanza e l'inizio tempestivo della terapia in caso di diagnosi di infezione. L'infezione d'HIV non si trasmette invece attraverso i normali contatti quotidiani con persone sieropositive. La stretta di mano, un abbraccio e un bacio risultano comunque innocui. Non comporta alcun rischio di contagio neanche la condivisione di vestiti, bicchieri, posate, piatti, asciugamani ecc. Il virus, responsabile poi dell'AIDS, non si può trasmettere neppure con la saliva, con i colpi di tosse, con il sudore, con il muco, con l'urina ecc. E non si trasmette neanche frequentando palestre, piscine, scuole, ristoranti, cinema, mezzi di trasporto, mezzi pubblici, ecc. La persona contagiata dal virus inizialmente non ha segni né sintomi. Generalmente dopo qualche mese dal contagio compaiono i primi sintomi che sono molto simili a quelli dell'influenza, come la febbre, il mal di testa, il mal di gola, l'ingrossamento dei linfonodi della milza e in alcune situazioni anche rasci cutanei. Questa sintomatologia, talvolta assente o comunque sottostimata dal paziente, tende a regredire nel giro di qualche settimana, lasciando l'individuo in perfetto stato di salute, ma in maniera solo apparente. Il paziente infatti può sin da subito trasmettere la malattia ad altre persone. Negli anni seguenti, inoltre, il virus HIV continua a moltiplicarsi nei linfonodi, distruggendo a poco a poco i linfociti T. Durante questa fase, che può durare diversi anni, mediamente tra i 5 e i 10 anni, il paziente lamenta sintomi come febbre ricorrente, perdita di peso, situazione di diarrea, fiatocorto, tosse e il tipico ingrossamento dei linfonodi. Nell'ultima fase della malattia, che compare approssimativamente dopo 10 anni o più dal contagio, i sintomi si fanno sempre più gravi e a questi si sommano quelli dovuti allo sviluppo delle cosiddette infezioni opportunistiche, ovvero polmonite, candidosi, toxoplasmosi, meningite, tubercolosi ed altre ancora. Per sapere se si è stati contagiati dal virus HIV è sufficiente un prelievo di sangue. L'infezione da HIV viene rilevata con test di primo livello, quali l'Elisa test, che in caso di positività vengono confermati definitivamente con un test di secondo livello. La riduzione del rischio di trasmissione sessuale dell'infezione da HIV può essere ottenuta invece tramite l'utilizzo corretto di strumenti di barriere in lattice durante i rapporti sessuali. Abbiamo inoltre visto come la condivisione di strumenti per la preparazione di sostanze stupefacenti per via endovinosa può costituire un rischio di acquisizione di infezione da HIV. In questo caso si raccomanda quindi di utilizzare sempre delle seringhe sterili monouso e mai condividere con altre persone siringhe o altri strumenti per la preparazione di sostanze stupefacenti da utilizzare per via endovinosa. Per prevenire invece la trasmissione verticale c'è da dire che l'assunzione della terapia antiretrovirale da parte della donna con infezione da HIV costituisce il mezzo più efficace per impedire al virus di trasmettersi al bambino. Se la diagnosi di infezione da HIV viene posta precocemente nel corso della gravidanza e viene quindi iniziata tempestivamente una terapia antiretrovirale con abbattimento della quantità di virus circolante il rischio di trasmissione da HIV dalla madre al bambino è inferiore all'1%. In assenza di terapia antiretrovirale invece questo rischio aumenta fino a raggiungere il 20-40%. L'esecuzione del test va raccomandata indipendentemente da ogni valutazione di rischio a tutte le donne in gravidanza o comunque a tutte le donne che intendono programmare una gravidanza al fine così di identificare precocemente l'infezione ed attivare il percorso di cure. Attualmente non esiste una cura definitiva in grado di eliminare completamente il virus dall'organismo e quindi che consenta di guarire dall'infezione da HIV ma possiamo sicuramente contare su terapie altamente efficaci e tollerabili rappresentate dai farmaci antiretrovirali. Le terapie attualmente disponibili consistono nell'assunzione per bocca di combinazioni di farmaci che hanno l'obiettivo di sopprimere la replicazione del virus riducendone la carica virale. Le terapie sono tanto più efficaci quanto prima vengono iniziate. Una volta iniziate devono essere assunte in modo regolare e continuo senza interruzioni.